Momento delicato per il Pescara, la vigilia di questa gara con il Crotone, il capitano della formazione bianca-azzurra cosa dice? Sì, purtroppo veniamo da un momento un po' così così, però penso che la squadra anche sabato abbia dimostrato di giocar bene perché a parte penso tre cross non abbiamo subito niente, con tre cross ci hanno fatto due gol, purtroppo ora è un momento così bisogna subito uscire fuori e sabato c'è secondo me la partita giusta per dimostrare il vero Pescara, quello di fino a un mese fa. Hai colto segnali positivi nei giorni seguenti la gara con il Novara nonostante questa battuta d'arresto? Ma quello sì, la squadra è sempre stata compatta, non c'è mai stato niente di chiara, questa squadra ha un gruppo secondo me fantastico che lavorano sempre, sono ragazzi che hanno voglia, purtroppo il momento è un po' così e sabato come ripeto abbiamo preso tre cross, due gol e noi nonostante tutto giochiamo a calcio, abbiamo creato anche tanto, quindi quello è un punto su cui ripartire. Un gruppo sano, un gruppo che vuole tornare a fare risultato già dalla gara con i calabresi? Sicuramente, loro sono secondi, non a caso stanno secondi, però ripeto la partita giusta secondo me per venirne fuori da questo periodo qua.